Buongiorno, sono Simone, sono qui per presentarvi Ferrara, uno dei decorativi della gamma Italia Color Texture di Industria Colori Duri Plastic. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Terminata la stesura del prodotto sulla parete, si passa a dare il disegno con questo speciale tampone effetto freddo. Grazie a tutti. Ferrara è un decorativo acrilico traspirante caratterizzato da una finitura rigata tipica dei fili di seta.